bene ho realizzato questa presentazione per voi commentata per valutare insieme ed imparare a valutare il body condition score nella bovina da latte la presentazione è la traduzione di una presentazione presente online già da più di dieci anni sviluppata nel luglio del 2004 dalla penn state university che fa un sistema step by step per valutare il body condition score vi ho fatto la traduzione italiano del migliore più pratico sistema a mio giudizio per la valutazione del bcs nella vacca da latte quindi è uno schema passo a passo sviluppato per tecnici per nutrizionisti per allevatori e per veterinari che vogliono occuparsi di valutare il body condition score nell'allevamento della bovina da latte per agevolare il confronto con le slide originali le ho lasciate come vedete nelle diapositive in piccolo formato all'interno della diapositiva stessa la presentazione originale a questo titolo learn to score body condition step by step ed è stata aggiornata nel luglio del 2004 adottata da una precedente schema fatto da elanco nel 1997 quindi compie circa 20 anni questa valutazione le basi teoriche per valutare body condition score sono fondamentalmente legate al fatto che questo punteggio vada 1 a 5 dove 1 indica una vacca molto magra e 5 una vacca molto grassa i punteggi hanno uno scarto di 0 25 punti che permettono di cartergorezzare le diverse sfasi di ingrassamento della bovina questo sistema step by step si concentra in modo particolare nel valutare accuratamente gli score tra 2,5 e 4 per cui tramite l'osservazione di punti di repere di strutture osse a livello di groppa e lombi della vacca siamo in grado di valutare il body condition score le basi teoriche gli score al di sotto dei due e mezzo e al di sopra dei 4 generalmente indicano dei problemi per esempio la differenza tra un 4,75 e un 5 non è importante non è significativa la vacca è sempre comunque grassa ugualmente non è importante la differenza tra 1,5 e 1,75 perché la vacca è comunque magra sono molto più importanti la categorizzazione dei punteggi tra il 2,2 e mezzo e il 4 per la valutazione del body condition score occorre fare una vista da lato della bovina combinata con una vista da dietro per quanto riguarda la vista da lato adesso guardiamo i punti di repere principali che vi faccio anche vedere in altri video presi direttamente sulla bovina da latte per quanto riguarda le aree di riferimento abbiamo le tuberosità dell'ischio la tuberosità dell'ileo quella che è l'articolazione dell'anca con il trocantere del femore le processi trasversi delle vertebre lombari nella loro sommità che si vedono proprio in questa regione per quanto riguarda invece la visione da dietro oltre alle stesse diciamo rilievi ossei si valuta anche dei legamenti quindi i rilievi ossei sono la tuberosità dell'ileo la tuberosità dell'ischio l'articolazione dell'anca questo appunto in maniera bilaterale la colonna vertebrale i processi trasversi delle vertebre lombari soprattutto si valutano anche i legamenti sacroiliaci che sono questi e i legamenti sacroischiatici o coccigei che sono questi altri per quanto riguarda il primo passo il primo step occorre valutare l'angolo fra l'ileo l'anca e l'ischio la prima decisione che dobbiamo prendere è quella di dividere le bovine che noi osserviamo in due grossi gruppi quelle che hanno un body condition score di 3 o inferiore e quelle che hanno un body condition score un bcs maggiore di 3 dal lato occorre valutare proprio quest'angolo che andremo a vedere nelle prossime diapositive l'angolo è quello sotteso fra l'ileo l'anca e l'ischio scusate questo è l'ileo questo è l'anca e questo è l'ischio se questo angolo costituisce una v abbastanza netto demarcato perché il grasso sotto la groppa è piuttosto limitato il bcs sarà 3 o inferiore se invece quest'angolo fra l'ileo l'anca e l'ischio è tendenzialmente appiattito quasi una curvilinea a forma di u il bcs sarà maggiore di 3 attenzione se non riuscite a caratterizzare di lato questa grossa divisione fra appunto le vacche sopra sotto il 3 tra la u e la v dovete osservare la bovina da dietro e guardare il profilo dell'anca cosa significa che se questo diciamo congiungimento dell'anca con l'ischio e l'ileo è angolato la bovina sarà sotto il 3 e quindi tendenzialmente una v qualora invece ci sia una copertura di posa questo profilo sembrerà più arrotondato e quindi la bovina sarà sopra il 3 ma possiamo vedere alcuni esempi per focalizzarci meglio nelle visioni da lato queste sono le foto tratte dalla presentazione originale qui vediamo una vacca che ha una v quindi sarà 3 o inferiore qui vediamo un'altra vacca magra che sottende una v di lato quindi sarà bcs 3 o inferiore qua invece abbiamo il caso opposto cioè abbiamo una tendenza a una curvilinea quindi avremo un bcs superiore a 3 questa è una vacca che ha una v quindi un bcs di 3 o meno altra vacca scura nera in cui si vede molto bene la v di bcs di 3 o inferiore e passiamo quindi a caratterizzare adesso tutte quelle che sono i diversi gradi di punteggio da circa 2 fino a 3 con gli scarti di 0,25 punti abbiamo detto che le bovine sotto il 3 hanno una v e quindi dobbiamo cercare di definire gli score da 3 o inferiori semplicemente osservando il profilo dell'ileo se questo è arrotondato o è angoloso vedete che in questa bovina il profilo visto da dietro dell'ileo appare arrotondato mentre in quest'alto ilio appare spezzato facendo finta che questa bovina abbia entrambi linei curvilinei questa bovina ha un bcs pari a 3 qualora invece l'ileo ha un profilo angolato e qui lo vedete in risalto con questa linea rossa il bcs sarà di 2,75 o inferiore le vacche quindi con l'ileo angoloso devono essere sottoposte alla valutazione dell'ischio cioè se l'ischio è arrotondato o è angoloso vale a dire ileo angoloso vacca con bcs inferiore a 2,75 valutando l'ischio se questo è arrotondato per la presenza di cuscinetto adiposo sottocutaneo allora il bcs sarà pari a 2,75 qualora invece l'ischio sia tendenzialmente triangolare guardate come si vede bene in questa slide l'ischio triangolare il bcs sarà inferiore a 2,75 ora definiamo quelli che sono gli score sotto il 2,75 valutando meglio gli ischi la domanda che ci dobbiamo porre è si riesce a palpare il cuscinetto adiposo sugli ischi se palpando fisicamente con le mani a livello di ischio si sente cuscinetto adiposo quindi dell'adipe sottocutaneo allora il bcs sarà pari a 2,5 quindi ripassando guardando la bovina di lato vediamo una v guardando la bovina da dietro vediamo gli ilei angolosi guardando gli ischi vediamo una triangolarità palpando l'ischio c'è un cuscinetto adiposo allora il bcs è di 2,5 qualora invece noi non riusciamo a palpare sulla triangolarità dell'ischio il cuscinetto adiposo il bcs sarà inferiore a 2,5 per caratterizzare i punteggi inferiori a 2,5 dobbiamo spostare l'attenzione a livello dei lombi e quindi valutare la distanza tra i processi trasversi la loro visibilità e la colonna vertebrale cosa si intende se questa è la colonna vertebrale e questa è la sommità dei processi trasversi i processi trasversi presentano una demarcazione che è visibile fino a un certo punto in funzione del grasso presente in questa zona se la visibilità dei processi trasversi e fino a circa metà fra la sommità laterale e la colonna vertebrale allora in questa situazione siamo a un bcs di 2,25 qualora invece lo stato di dimagramento porta a vedere la demarcazione tra i processi trasversi fino a tre quarti di questa distanza il body condition score sarà di 2 o inferiore visti tutti i punteggi che vanno da 2 fino a 3 ora vediamo i punteggi delle vacche più grasse con un bcs maggiore di 3 quindi di lato vi ricordo abbiamo valutato che si vede una u bisogna spostarsi da dietro e valutare attentamente i legamenti sacroiliaci e sacroischiatici o detti anche coccigiei in modo particolare se la bovina presenta visibilità di questo legamento bilaterale e la visibilità dei legamenti sacroischiatici che sono tutti facilmente visibili perché poco infarciti di grasso il body condition score sarà pari a 3,25 qualora questo legamento ai lati della coda tra la coda e l'ischio sia poco visibile il bcs è 3,50 in corrispondenza della ancora visibilità del sacroiliaco qualora entrambi i legamenti siano poco visibili perché aumenta lo stato di ingrassamento il bcs sarà di 3,75 o superiore qualora entrambi i legamenti siano scomparsi perché la groppa è piuttosto grassa il bcs sarà 4 o maggiore per caratterizzare le vacche sopra il 4 occorre andare a vedere quello che è il grado di ingrassamento da una visione laterale ovvero se noi vediamo ancora la sommità dei processi trasversi e la groppa non è ancora del tutto appiattita il bcs è pari a 4 qualora di lato vediamo pochissimo i processi trasversi sono quasi scomparsi e la groppa è quasi appiattita il bcs è 4,25 qualora invece i processi trasversi le vertebre lombari e l'ischio siano poco visibili vedete come anche l'ileo appare poco visibile il bcs 4,5 o superiore e nei casi più estremi quando tutta la groppa e lombi sono infrarciti di grasso e questo non consente di vedere le asperità osse il bcs è pari a 5 la cosa importante è mi raccomando iniziate subito a valutare body condition score delle bovide da latte e se già lo fate bene complimenti siete bravi continuate a farlo le motivazioni per fare il bcs le tratto in un altro video non è lo scopo di questo eventualmente andate nella descrizione di questo video e troverete il link agli altri video che ho fatto per voi spero che questa traduzione vi sia stata utile e mi raccomando non fermatevi a ragionare sui 0,25 punti perché questo sistema è tarato in modo tale che vi sia una certa corrispondenza tra osservatori e nell'ambito dello stesso osservatore a distanza di tempo c'è una certa uniformità fatelo e confrontatevi con altri mi raccomando in modo tale da trovare una certa uniformità e non preoccupatevi perché normalmente nel mondo della valutazione del bcs ci sono alcuni operatori che tendono a smagrire le vacche di circa 0,25 punti ed altri che cercano a ingrassarle di 0,25 in realtà non è tanto questo il problema il problema è iniziare a fare body condition score in momenti ben precisi della lattazione delle bovine che per quanto io considero utili considero il momento della messina asciutta il momento del parto e il momento del picco di lattazione vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine l'ho dovuto rifare ben tre volte perché l'audio non funzionava spero che questa volta funzioni bene condividete questo video con altre persone ai vostri colleghi collaboratori o altri allevatori se vi è piaciuto mettete un mi piace mi piace un like e condividetelo con altri oppure fate dei commenti volti a eventualmente migliorare questa presentazione su questo argomento ciao a tutti